Cosa chiediamo all'amministrazione? Chiediamo all'amministrazione di essere considerati, visto che non ci considera per niente, visto che per poterci parlare sono dovuta andare io di straforo senza appuntamento perché erano tutti impegnati con la città di Natale, quindi siamo arrivati dal 10 gennaio senza sapere dove e quando lo dovevamo fare. E quindi di conseguenza penso che, visto anche l'afflusso che ci sono state queste domeniche piene di bambini e il carnevale della città, penso che dovrebbe essere tutto più nella considerazione da parte dell'amministrazione. Non manca di sottolineare la sua amarezza il patron del carnevale rettino dell'Orciolaia, Giuseppe Marconi, perché ancora una volta il carnevale storico della città è stato relegato in un angolo. I problemi logistici ci sono, nessuno li nega, ma di fatto il carnevale denuncia una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione. È una manovistrazione completamente di volontariato, tutti ci perdono nottate, giorni per crearla, le restrizioni sono sempre di più, gli impegni sono sempre maggiori, quindi di conseguenza se l'amministrazione cedesse un po' più di considerazione. Speriamo nella prossima, speriamo nella prossima amministrazione che cambi idea sul carnevale e lo riporti a quello che era, perché in effetti eravamo arrivati in via Petrarca, in pezza Guido Monaco, a dei livelli nazionali. Oggi invece siamo ridotti in periferia, in un angolo molto stretto e dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione perché i bambini, essendo molti, i pericoli se ne creano, quindi non bastano dieci occhi per vedere tutto, perché sa benissimo, finché tutto va bene, non ci sono problemi, se succede qualcosa, sono problemi per coloro che organizzano. Per l'ultima uscita, quella di domenica 23 febbraio precedente al martedì grasso, il 25 di febbraio quando il carnevale Arettino si sposterà in piazza Sant'Agostino, arriverà anche il carro della satira politica a cui il carnevale ci ha sempre abituato e sarà dedicato, manco a dirlo, al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e all'ex presidente di Coingas, Sergio Staderini. E ribadisco, va bene che i bambini non votano, ma votano i genitori, quindi anche i nostri politici dovrebbero fare un po' di mea culpa per quello che stanno facendo.